Ma la prendi al centro e la lanci diritta davanti a te su questa manina qui. Uno, due, tre. Vai! Sono sicurissimo. Vai Valentina. Dini che mi fido. Vai! Uno, due, tre. Bravissima! Porti la flusa del Valentina e correggiamola. Vai Valentina. La seconda. Valentina concentrati perché ora ho due torce anch'io che se sbagli tornano adesso di te. Non è vero Valentina, è vero. Vai tranquilla. Forte applauso per Valentina. Non andare via Valentina. Alfonso, tu pure più vicino che se cado cado verso di te. Ormai c'è The Feeling tra di noi, i figli al volo. Esatto, quando volete. L'applauso è spontaneo. Ok Valentina, prendi un attimo. Ok Valentina, allontani. Alfonso, un po' più vicino. Un po' più vicino. Un po' qua dietro, un po' dietro. Un po' in braccio. Grazie Alfonso. Meno male che ci hai ripreso. Forte l'applauso per Valentina, che si sono prestati al gioco e si sa che giocando si resta per sempre giovani e bambini dentro. Grazie Valentina, grazie. Grazie Alfonso, puoi andare, grazie. Tutto a posto, abbiamo risolto? Grazie a tutti.